Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica si ricorda che a causa di lavori fino alle 18 di stasera rimarrà chiuso il tratto tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni. In A15 a causa di lavori si segnalano rallentamenti tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Sulle raccordo Sena-Firenze si ricorda che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata tra San Casciano e Impruneta Grevenchianti in entrambe le direzioni e per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio!